Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della regione con allerta arancio in varie zone della Toscana. Raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Peraltro il maltempo provoca disagi per il trasporto marittimo. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Per la mobilità in A1 restano code a tratti verso nord, tra B1 complonare Firenze Nord e B1 variante di Valico. In Fipili due chilometri di coda con tendenza all'aumento per incidente al chilometro 7 tra Scandicci e Ginestra. Ci troviamo nella carreggiata in direzione di Vorno. Regolare il traffico altrove. Prima di salutarci per il trasporto pubblico locale ricordiamo che fino al 9 marzo la funicolare di Certaldo è chiusa al pubblico per lavori di collaudo e manutenzione attivo, un servizio di trasporto alternativo. Buon versi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.